Buongiorno a tutti, sono Andrea Cabrini, presidente di Giovani Promesse. Volevo dirvi che siamo venuti qui a Marina di Massa. È stata un'esperienza unica nel suo genere perché i ragazzi hanno risposto ottimamente a tutte le nostre esigenze e a tutto quello che richiedevamo. Abbiamo notato che il livello si sta alzando sempre di più e questo è un aspetto che a me fa molto piacere perché vuol dire che i ragazzi incominciano a credere in noi. Noi siamo qua per cercare di realizzare i vostri sogni. I vostri sogni ovviamente siete voi che ce li avete. Noi siamo qui solamente per essere uno strumento e un vincolo per voi, quello di darvi una mano in quello che voi fate. Sicuramente il calcio è difficile, sicuramente queste selezioni che facciamo e faremo anche in tutta Italia. Col tempo arriviamo da tutti quanti in tutte le regioni italiane. Cerchiamo con tutto noi stessi di darvi la nostra professionalità, la nostra esperienza e cercare appunto di sia insegnarvi qualcosina, anche se in quattro giorni è veramente difficile, ma quello di essere capaci di individuare in voi un futuro italiano che secondo noi ci sarà al 100%. Perché come abbiamo visto oggi a Marina di Massa sono arrivati ragazzi con un sacrificio e un cuore incredibile perché arrivavano da Brindisi, Catania e sono sicuro che i ragazzi italiani sono pronti per mettersi in campo e sono sicuro di trovarne il nostro futuro perché l'Italia ha bisogno di voi, l'Italia ha bisogno di credere in voi e ha bisogno di scoprirvi e noi siamo qua per questo, siamo qua per trovarvi. Noi ci mettiamo con il nostro impegno tutto quello che facciamo, sta anche a voi mettervi e aver fiducia in noi. Il nostro sogno è quello di poter più ragazzi possibili nei professionisti italiani e niente. Vi do un grande abbraccio da uno bellissimo posto che è qui dove ci hanno ospitato e spero di rivedervi presto in Sicilia a Capodorlando dove ci vedremo a settembre. Un abbraccio grande a Andrea Cabrini. Grazie a tutti.